Buongiorno a tutti, oggi vi presentiamo il progetto Galileo, una curva tour del tema astrofisico che ha l'obiettivo di adeguare i percorsi di insegnamento alle esigenze di contesto generale. In prima si approfondirà il sistema solare e la sfera celeste, collaborando con osservatori e con l'Istituto Nazionale di Fisica Astrofisica, favorendo uscite didattiche e laboratori. Nel secondo anno invece si affronta il tema della luce come messaggera del cielo. Nella prima parte dell'anno si studiano le caratteristiche delle onde elettromagnetiche mentre nella seconda parte dell'anno si parlerà di ottica geometrica, quindi telescopi e il loro funzionamento. In terzo invece si affronterà l'Universo sia in fisica con gravità naturale o stelle, ad esempio luminosità delle stelle, distanze di quali più vicino a noi, in ciclo vitale più una stella, ma anche in filosofia a partire dai liti cosmogonici fino ai modelli cosmologici medievali. Arrivato in quarta si proseguirà il percorso di filosofia trattando della rivoluzione scientifica, quindi di Bruno, Galileo, Kant, Laplace, Newton e Cartesio. Invece per Fisica si trovano traduzione storica ai raggi cosmici, parlando di Dago Stalla, l'antimateria con l'ora oscura, la G.T. Apple, e quindi tutte quelle cose collegate alla teoria sull'espansione dell'Universo sul Big Bang. In quinta invece ci si preparerà per l'esame di Stato, lo rinunciando però a conferenze, masterclass e uscite didattiche. Grazie per l'attenzione e aspettiamo il progetto Galileo.